Anche quest'anno l'associazione New Generation partecipa ad una nuova edizione del Carnevale Canicattinese. Sì, quest'anno abbiamo deciso di ripartecipare a questa edizione, che è la quattordicesima del Carnevale Canicattinese. Siamo presenti con un garro allegorico ispirato sul mare, un po' sulla fantasia, quindi Dio Nettuno, cioè la rivolta della natura contro l'uomo, quindi tsunami, maremoti. Siamo presenti per far divertire la gente, anche in questo momento di crisi. Siamo assieme anche all'associazione Maria Santissima alla Catena, le associazioni partecipanti alle categorie A, Comitato alla Rembagio, siamo delle associazioni presenti da molti anni e quindi vogliamo far divertire e fare ancora tanto per questo Carnevale. Visto anche la crisi di Alce Carnevale, Sciacca e così via, noi siamo riusciti a realizzare, credo, un bel carro, abbiamo un bel gruppo di ballo e quindi porteremo un po' di allegri alla nostra città insieme all'amministrazione, che sta facendo un cartellone di tutto il rispetto ai fini di far divertire la gente che verrà a Canicattì. A che punto sono i lavori della cartapesta? Allora, noi siamo a buon punto, manca soltanto qualche parte del carro, però già si possono vedere tutti i pezzi completi, manca soltanto la pittura che è l'ultima cosa che rimarrà e poi il coordinamento finale che è la cosa più pesante da portare a termine perché in pochi giorni poi occorre assemblare, portarlo sul luogo del tragitto per poter sfilare quattro giorni. Cosa vi aspettate dal concorso invece? Allora, dal concorso noi non ci aspettiamo qualcosa di particolare, ci aspettiamo soltanto tanto divertimento, anche perché consideriamo che i carri partecipanti dovremmo essere 5 e più la pastarte che distribuisce dolci, quindi siamo 3 di categoria A e 2 di B, quindi in teoria così come in pratica a partecipare al concorso di categoria A siamo in 3, quindi non abbiamo nessuna aspirazione, nessun tipo di guerra tra noi perché siamo i gruppi più presenti, i gruppi più affiatati che sono stati presenti nei vari anni, quindi non credo che avremmo nessun problema tra il primo, il secondo e il terzo, siamo sul podio comunque. Signor Sanfilippo, che carro allegorico sta preparando la sua associazione? Noi ci siamo sperati a un cartone animato nuovo con Vupanda, però spieghiamo altre problematiche che ci stanno succedendo in questo momento perché con le tasse di monti e tutto quanto non si può andare più avanti, poi del resto speriamo che vada tutto bene, la gente venga in massa e certamente lo vedremo tutti. Quanti cani cattinesi sono coinvolti nel lavoro della cartapesta? Noi siamo circa 12 persone, ogni sera facciamo degli straordinari perché si fa solo con gli straordinari, quindi più di questo non possiamo fare per far divertire la gente. Cosa vi aspettate da questa manifestazione? Che tutto vada liscio, ci divertiamo tutti e poi come vada vada noi siamo sempre contenti. La satira quindi è la protagonista del vostro carro allegorico? Sì, noi abbiamo fatto sempre così. Quest'anno ci ripetiamo, speriamo che tutto vada bene, non succeda niente come ho detto prima e ci divertiamo tutti. Noi quest'anno come secondo anno di partecipazione proporremo tutti a Hollywood, sulle telecamere che hanno installato a Canicati. Siamo in collaborazione alla New Generation e speriamo di portare divertimento e allegria a Canicati. Quante sere di lavoro ancora mancano per completare la vostra creazione di cartapesta? Beh, essere sinceri, già noi come carro tutti a Hollywood stiamo già dipingendo, perciò penso che a fine settimana già sarà completo. Per quanto riguarda invece il lavoro delle coreografie? Beh, c'è la maestà del ballo che sta pensando agli ultimi lavori, ai vestiti e vari. Sempre gli ultimi giorni sono quei piccoli momenti per completare meglio le opere. In tutto questo quante persone ruotano attorno? Beh, il nostro comitato è composto da cinque persone. Poi quest'anno ci siamo uniti alla New Generation e insieme abbiamo lavorato per tutti e due i carri. Come vede questo carnevale? Beh, della partenza che aveva preso mi sembra che adesso è migliorato molto, già considerare che è la quarta e dicesima edizione e già fa bene sperare. Spero che non ci saranno le varie discussioni a fine carnevale, ci divertiremo tutti e faremo divertire la città che ne ha di bisogno adesso. L'Associazione Maria Santissima della Catena è impegnata in questi giorni, come altre associazioni canicattinesi, nella realizzazione di un carro allegorico? Sì, il carro si chiama, l'aveva già spiegato il Presidente, mangia, vive e dorme. Ci speriamo al Kung Fu Panda, che è la nostra storia, poi la vedrete, è inutile spiegarla ora. Non è giusto. Noi speriamo di far divertire i canicattini e i paesi limitrofi. Le coreografie? Le coreografie? Non posso spiegare niente ora, è meglio vedere alla fine. Venite tutti a vederci e vi divertirete sicuramente. Cosa promette la vostra associazione comunque? La nostra associazione è massimo impegno come le altre, le altre associazioni ci siamo anche noi che non la rappresenta nessuno oggi in queste interviste e tutti gli altri, cioè saremo al massimo. Assessore, il 18 febbraio si aprono le danze, possiamo ben dirlo, del carnevale canicattinese giunto alla sua quattordicesima edizione. Sì, si aprono le danze il giorno 18 mattina con le scuole e poi pomeriggio tra sabato, domenica, lunedì e martedì naturalmente con i carri. Io nell'occasione vorrei ringraziare i carristi e le associazioni che veramente in anno e anno portano avanti questo carnevale. Le ringrazio veramente di cuore anche perché tipo quest'anno ci sono sempre le solite associazioni che da una vita che lo fanno, sono 14 anni in effetti. E sono, ci siamo un'associazione, ci siamo anche noi, Maria Santista della Catena e New Generation, ma ringraziamento anche alle associazioni che sono associate pure. Vede caso all'arambaggio, poi c'è un'associazione culturale, Terra del Sole, mi sembra che sia un'associazione nuova, e la Pastarte. Dunque, noi cercheremo di fare sicuramente il nostro meglio a livello di amministrazione, ma tutto dipende dai carristi, che fanno veramente tantissimi sacrifici, sacrifici enormi per Giunta, perché lavorano in condizione, dobbiamo dirlo, non è che ci sono locali abbastanza, insomma, sono anche faticenti pure, perché hanno bisogno di locali un po' particolari che noi non abbiamo. E poi, li ringrazio tantissimo, perché veramente, grazie a loro vive il carnevale a Canigatì. Con il forse della manifestazione di Sciacca, Canigatì potrebbe diventare la meta più ambita per quanto riguarda questo lembo di Sicilia? Beh, io me lo auguro che sia così, però noi non dobbiamo, in pratica, gioire oppure vivere le disgrazie di altrui, se lo fanno o non lo fanno. Noi pensiamo per noi, noi facciamo il nostro carnevale e il nostro carnevale è cane cattenese. E diamo onore alla nostra città e ai nostri carristi. Quanto è stato ampio l'impegno dell'amministrazione comunale per realizzare il carnevale canigatinese? Ma, guardi, l'impegno dell'amministrazione, come sempre, è a livello logistico, però, sai, ti dico veramente con tutto il cuore che non è che sia impegno tantissimo, sai perché? Perché abbiamo i carristi, veramente, che ci danno un grande aiuto. Per cui tutto è semplice, anche se è difficile, ma è semplice. Cosa si aspetta da questa manifestazione? Che tutto vada bene, che sia grande gioia, grande divertimento per tutti. E io invito a tutti i cittadini di partecipare, perché è importante, quando si fanno le cose, di partecipare a quello che si fa. Sotto il profilo dello spettacolo che avete reclutato quest'anno? Ma, guardi, ancora sotto il profilo dello spettacolo stiamo lavorando, perché mancano ancora 25 giorni, credo. Quindi siamo al vaglio delle situazioni. Sono arrivate delle proposte che stiamo cercando di elaborare e sicuramente di fare del nostro meglio. Grazie. Grazie. Grazie.